segui la sette anche su instagram la sette ovunque con te insomma più il fastidio che il guaio ecco una scocciatura che il guaio va bene va bene non chiederò dettagli diciamo per rispettare il privato di bersani senta quanto è preoccupato lei personalmente da quello che sta succedendo e secondo lei quando finisce questa guerra fatto domande facili diciamo ma la mia preoccupazione più grossa che è questa se c'è uno spiraglio per negoziare lo si colga e quindi l'europa che comincia a dirlo ha sentito draghi abbiamo sentito macron ma insomma dovrebbe dire chiaro agli ucraini noi vi difendiamo non cerchiamo escalation cerchiamo negoziato e dire a putin noi difendiamo l'ucraina perché possa in piedi negoziare forza smettila e negozia e questo deve essere detto con molta forza e chiarezza perché sono arrivate anche dall'occidente delle voci diciamo così poco accettabile vincere no negoziare allora aspetti aspetti le varie voci ce le andiamo a vedere attraverso i singoli protagonisti così ci capiamo bene il primo protagonista secondo me non può che essere putin perché da lui non si può prescindere e allora io chiedo ieri ha avuto un lungo colloquio con macron quello cui pure lei faceva riferimento due ore e mezzo di telefonata e diciamo che si è detto pronto a dialogare ha detto noi non smettiamo di voler dialogare e contemporaneamente c'erano bombardamenti in tutta l'ucraina oggi non è andata fino a questo momento diversamente e allora io chiedo lei che cosa ha capito putin che che progetto c'ha nella testa e quante volte l'ha già cambiato questo progetto e quanto il nostro atteggiamento può incidere sul fatto che diciamo il progetto diventi un progetto devastante per tutti ma che cosa abbia avuto abbia in testa putin nonostante tutte le expertise di strateghi che abbiamo in giro io credo che non ce l'abbia chiaro nessuno quando c'è molta nebbia in giro bisogna almeno chiarire la propria posizione e diciamo accompagnare gli eventi per essere più chiaro dico questo se mai fosse l'idea di putin quella di insediarsi nel donbass e magari da lì cominciare a ragionare e non fosse quella di abbattere l'ucraina come stato sovrano in quel caso noi non dovremmo chiedere prima di negoziare il ritiro delle truppe russe dal donbass noi dovremmo cominciare a negoziare e utilizzare altre armi di pressione mi è chiaro mi è chiaro possono accompagnare un negoziato però però segnalo bersani che per esempio i russi sono già a kerson e continuano a spingere verso micolai verso odessa kerson non è donbass quindi putin ha già superato quella linea come si torna indietro da là io credo però che a un certo punto dovrà pur chiarirsi la strategia di putin può darsi può darsi può darsi e faccio ipotesi da sì sì certo ne fa come fosse al bar diciamo così può anche darsi che si prepari avere delle posizioni sulle quali poi cedere al tavolo per parzialmente ritrarsi può darsi può darsi che sia allestendo delle iniziative in vista di un braccio di ferro su un negoziato può darsi a un'ipotesi allora in attesa di capire e spero che questa attesa non sia lunga è molto importante diciamo separare le parole d'ordine dell'europa da parole d'ordine che sono arrivate fuori dall'europa cioè per esempio facciamo l'esempio di biden mettetemi una bella foto di debolire queste cose da quando c'è la bomba nucleare parlare di vittoria è un ossimoro bisogna parlare di negoziare aspetti c'è un aggiornamento un aggiornamento la separazione tra l'europa e ad esempio gli stati uniti e ad esempio l'inghilterra che arriva da mariupol dove la situazione